distretto di polizia vorrei parlare con l'ispettore falco l'ispettore falco un momentino prego sì sì sono io l'ispettore falco chi è che parla ma è proprio gina falco certo vorrei che lei si lei dicesse chi è esiste lei è proprio gina falco chi sono l'ho già detto lei chi è voglio vederla ho molte cose da raccontarle per caso qualcosa che ha a che fare coi delitti della forbici ossì quante cose o da raccontarle ispettore allora lei mi deve dire dove e quando